Allora, Zappo Tour Alcatraz, siamo a Tami, siamo a Nyua Kao e adesso abbiamo la cena, sì sì mi piace, e siamo pronti per la cena qui, qua dentro, c'è una sala enorme, adesso vediamo, c'è una buffet questa sera qui, col gruppo, e avremo la nostra stanzetta, ma adesso vediamo dove ci mandano. Guardate che sala, ho detto che sembrava un auditorium, noi siamo i VIP, abbiamo la sala privata, noi abbiamo la sala privata, possiamo fare karaoke, possiamo salire sui tavoli, allora ho pensato giusto di prendere due cose, penso che non ho mai visto un vassoio così pieno, non può essere, è impressionante, sai un sacco di cose, tu cos'hai preso, come si chiamano quelli, in italiano non mi ricordo, come si chiamano, come si chiamano, come si chiamano, da noi li chiamano bocconi, bocconi, ma non sono così grandi, bocconi di mare, quelle tipo le luma gigantesche, così grandi che avevo mai visti ragazzi, Guardiamo il piatto, bellissimo, hai preso anche tra l'altro le cose di patate che mangiano i bambini, quelle di anpanman, un attimo di pausa, dalla cena, perché abbiamo musica live. Abbiamo finito il primo round di mangiare, non so se avete visto la quantità di cibo che ho ingurgitato, Questi sono i dolci, non giudicarmi, finisco col salato e inizio con i dolci, mamma mia, adesso vado anch'io, e niente, qua c'è la zona drink, qua c'è la zona cioccolato, sono delle polpettine di carne, i takoyaki, guardate che sala enorme, qua c'è un po' di verdura, insalata, patate, cipolla, broccoli, un po' di altri topping, condimenti, mozzarella, pomodori, pettini, altra insalata, Questo era buonissimo, è una mousse di carote col prosciutto, questo qua era fenomenale, questa è la yuba, che è sempre la soia praticamente, e anguilla, qua abbiamo ocra, ocura, questa qua è ocura, non avevo mai visto di questo colore qua, qua abbiamo queste conchiglie, se non so chiamarli questi crostacei, non so come chiamarli, ho ingrandito un po' la telecamera, per farvi vedere meglio, qua c'è un po' di peperonata, qua cosa abbiamo? Abbiamo del pesce spada, e qua abbiamo il kazuo, il tonnetto striato, che stanno preparando, qua abbiamo del roast beef, con, guardate qua, le cozze, e un po' di pesce, gamberi, qua cosa abbiamo? yakisoba, tegoline, pan pizza, pasta pasticciata, anzi lasagna, qua cosa abbiamo? un po' di oden, che è il minestrone che di solito mangiano l'inverno i giapponesi, qua c'è le altre zuppe, 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 poi andiamo di qua, qua c'è un'altra zona drink, qua c'è la zona dolci, e frutta, questa è patata dolce, cheesecake, lemon cheesecake, questo con il fagiolo dolce, pudding, ci sono anche di croissant, quello stai prendendo? adesso provo questo, sicuramente al limone, ma non so cosa sia, se non è tipo una cheesecake, no? una mousse, forse, non lo so, una mousse, che non riesco a staccare, bravi, ho un po' di gente che applaude, e qua abbiamo del sashimi, c'è la del tonno, questo qua è tonno, con un po' di verdura, gamberi, e qua abbiamo dei nigiri, con il riso, guardate quanto gente c'è, adesso mi prendo un vassoio, e via di dolce, qua abbiamo il dolce, c'è un po' di misto qua, cheesecake, mousse, e boh, non lo so, ho buttato tutto nel piatto, una serata divertente in compagnia dei ragazzi del Jappo Tour di Mante 443, adesso andiamo a Nanna, che domani è un'altra giornata, andiamo a visitare a Kone, e poi la sera appunto a Chioto, grazie per aver visto questo video, mettete mi piace, commentate e condividete, per supportare Polentone in Giappone, che sono io, e al prossimo video da Giappone, ciao da Polentone, ciao ciao!